Alcuni anni fa andò in onda un servizio delle Iene che fuisce molto clamore perché raccontò la storia di Antonio guarito da un grave tumore. Il figlio di Antonio Massimiliano Diaco insieme al dottor Vasco Merciadri ha fatto tappa nella nostra regione per parlare di salute e anche di uno stile sano, soprattutto nell'alimentazione. Francesca Ricci. Alimentazione come prevenzione delle malattie cronico-degenerative. Questo è il titolo dell'evento organizzato dal Centro Elianto a Tuoro sul Trasimeno in collaborazione con il network Vegan Ok. Ospiti della serata, due grandi protagonisti del mondo della salute. Il dottor Vasco Merciadri, medico chirurgo, omeopata, esperto in nutrizione, membro del comitato scientifico Associazione Vegani Italiani Ollus. E Massimiliano Diaco, oggi presidente dell'associazione Alimentiamo la Salute, conosciuto in tutta Italia dopo il servizio delle Iene che ha raccontato l'incredibile storia di Antonio guarito dal tumore. Ora il cervello, grazie al cambio di alimentazione proposto proprio dal figlio Massimiliano. Questa è la risonanza magnetica fatta dopo la radioterapia, prima di iniziare la cura base vegetale. E c'era ancora una massa tumorale di quasi due centimetri. E questa accanto invece è la TAC dopo appena tre mesi di cura, pulita. Mangiare sano è lo strumento che ci dà il potere di dare al nostro sistema il miglior esito per dare il massimo delle performance sulla salute e sul benessere. L'Umbria è una delle regioni dove il tasso di mortalità per malattie cronico-degenerative, ictus e malattie cardiovascolari è altissimo. Il perché ce lo spiega il dottor Vasco Merciadri. Almeno il 70-75% delle patologie sono legate all'alimentazione. Una sana alimentazione ci allontana e scongiura il fatto che possano crearsi delle gravi patologie. Noi dobbiamo cambiare nel limite del possibile la nostra alimentazione. La nostra deve essere un'alimentazione a base di frutta e verdura cruda, cereali integrali e legumi. Quindi lasciare da parte tutti quei prodotti che non vanno bene per l'essere umano, cominciando da carne, pesce, latte e derivati, uova e simili. Oltre alla farina 00 e allo zucchero bianco, che sono anche questi dei veleni dai quali dobbiamo stare distanti. Chi mangia sano sta dando tutto il contributo al suo corpo per esprimersi al suo potenziale migliore. E quindi, ovviamente, se io epigeneticamente posso controllare i miei geni con quello che mangio, quello che penso, quello che respiro, lo posso fare? Beh, facciamolo!